C'è chi dice che c'è stato un momento di verità in settimana perché il governo, il ministro Tria, i documenti ufficiali del governo hanno detto un po' le cose come stanno e la crescita non c'è, le tasse sono destinate a salire anche se poi il dibattito rimane sulle tasse se scendono o no. Questo l'ha detto il ministro Tria che è un ministro tecnico e non politico e devo anche dire che è abbastanza coraggioso per un politico che oltretutto si presenta alle elezioni dire quello che Pisapì ha appena detto. E cioè che è bene non coltivare illusioni pericolose, promettere tutto a tutti perché il momento della verità comunque arriva e può essere negativo non tanto per chi ha raccontato bugie o ha illuso gli elettori ma per gli elettori stessi. Quindi io penso che dire la verità sia un dovere per chiunque ma ancora di più per i politici. Donazzano, meglio affrontarla la realtà per quella che è.